Mi chiamo Cordua Gianluigi, ho 17 anni, frequento la quarta IT indirizzo meccatronico dell'Istituto Superiore Silvio Darzo di Montecchio Emilia e ho scelto questa scuola perché mi piace molto la meccanica e i motori. Sto svolgendo la mia esperienza di stage estivo in Valvoil SPA nella sede Bibiano presso il reparto magazzino e mi occupo di preparare il materiale che verrà poi utilizzato al montaggio. Questo è il mio secondo anno di stage in Valvoil, l'anno precedente ho svolto la mia esperienza presso il reparto montaggio e collaudo e queste due esperienze mi hanno aiutato ad acquisire una buona manualità che mi sarà poi utile nelle prossime esperienze lavorative. Nel mio futuro prevedo di andare all'università a fare ingegneria meccatronica perché voglio approfondire gli studi fatti e imparare cose nuove e acquisire nuove conoscenze. Voglio fare anche l'università per avere una buona occupazione ed avere un lavoro che sia inerente ai miei interessi.